Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha nominato altri due assessori, si tratta di Gianni Capone e Ivana D'Agostino. Il primo cittadino ha anche provveduto ad una rivisitazione delle deleghe in seno all'esecutivo. Questa mattina il primo cittadino ha presentato alla stampa i nuovi assessori e il nuovo complessivo assetto della Giunta, oltre ad alcuni provvedimenti adottati nell'ultima seduta di Giunta. La necessità era quella di allargare la Giunta, abbiamo bisogno sicuramente di aiuto, visto che la situazione non è delle più facili, sono contento di essere riuscito a finire, a completare la mia Giunta, per cui adesso dobbiamo addirittura nuovamente riaccelerare per cercare di proseguire quello che sino ad oggi è stato fatto. Sono stato assessore 15 anni fa con la Giunta a Vantario, quindi per me non è una novità, anche se le condizioni della città sono molto cambiate, le difficoltà di oggi sono evidenti a tutti. L'ambito di cui mi occuperò è soprattutto incentrato sui lavori pubblici. In coerenza con quanto ho pensato e progettato dal Sindaco Bottaro, intendo sviluppare il mio lavoro su due ambiti fondamentali. Il primo ambito è concreto, immediato, riguarda il quotidiano, le manutenzioni, la qualità della vita dei cittadini che si traduce in servizi, quelli fondamentali. L'altro ambito, che è il secondo pilastro, credo, di questa amministrazione Bottaro, nell'ambito dei lavori pubblici, è tradurre una visione della città in progetti. Questa città non ha progetti. Ho molte idee insieme alla Giunta, perché lavoreremo tutti insieme, sicuramente la prima cosa che c'è da fare è incontrare le associazioni di categoria e da lì partire con una rete, sia con loro che con le attività.